Buongiorno a tutti, siamo presso l'associazione Voghera E perché stiamo festeggiando un avvenimento, una ricorrenza molto importante, un anno di attività per questa associazione e non potevamo non festeggiare con la presidente Patrizia Longo che è qui con noi e alla quale non posso far altro che chiedere come è andato questo anno, qual è il bilancio di questi primi 12 mesi? Aiuto, è già passato un anno davvero dall'inaugurazione di questa società, di questa associazione, un anno mi sembra ieri, mi sembra ieri quando abbiamo deciso di imbalcarci in questa avventura, eravamo davvero pieni di entusiasmo, pieni di voglia di fare, con tanta voglia di portare a Voghera qualcosa di diverso Ed è passato un anno davvero, il bilancio, il bilancio posso dire che noi abbiamo lavorato in squadra e abbiamo lavorato bene, abbiamo imparato in questo anno a conoscerci, a diventare amici, a sopportarci e a supportarci a vicenda, abbiamo tirato fuori come in una squadra il meglio di noi E credo che abbiamo lavorato bene insomma, gli eventi sono stati tantissimi e abbiamo avuto delle risposte, delle risposte dalla popolazione, da gente che ci ha sempre seguito e da persone, da gente che ha imparato a seguirci col tempo Io sono contenta di questa cosa e sono soprattutto contenta del nostro gruppo Infatti lei ha usato la parola squadra, la parola gruppo, insomma immagino che ci siano delle persone che hanno contribuito in questi mesi a far sì che questo progetto divenisse una realtà importante e così riconosciuta dai cittadini Immagino lei voglia fare dei ringraziamenti Certo, prima di tutto a voi, GEP TV ci aiuta, ci sostiene insomma e quindi ci permette anche di farci conoscere e questa è una cosa bella Ringrazio tutta la mia squadra, senza differenza alcuna perché veramente più passa il tempo più siamo uniti e posso dire che abbiamo avuto dei soci onorari e sono le persone che voglio ringraziare Certo, ha preparato anche l'elenco Sono la pittrice Maria Luisa Lusardi che ha esposto qui con la figlia e con la nipote per l'8 marzo che è stata la giornata della donna che abbiamo festeggiato così E poi Silvana Borutti, docente di epistemologia all'università di Pavia che ha tenuto una lezione, sempre nella nostra sede, su amicizia e social network Poi abbiamo, voglio ringraziare, il terzo socio onorario è Vittorio Emiliani che è un giornalista di livello nazionale che non ha mai dimenticato Voghera che è stata in realtà la sua città di adozione E per ultimo Irene Moroni, alziere del lavoro per meriti scolastici, è un ingegnere chimico che ora risiede a Sydney per dottorato e ricerca Queste sono le persone che abbiamo deciso di onorare proprio perché fanno parte di Voghera E hanno dato sicuramente un contributo molto importante alla città e all'associazione Assolutamente sì, e quindi ringrazio tutti e ringrazio tutta la popolazione di Voghera perché ci segue Siamo con uno dei soci fondatori dell'associazione, il dottor Coperchini, è corretto? Siamo qua e non posso non chiederle quali sono stati gli eventi che più vi hanno dato soddisfazione e gioia durante questi 12 mesi La scelta non è semplice, nel corso dell'anno abbiamo organizzato più di 30 eventi Quelli che più ci, parlando anche con gli altri soci, ci sono rimasti più nel cuore sono quelli legati a realtà della città La fiera dell'ascensione e gli eventi del castello Sappiamo quali sono state le problematiche organizzative legate alla fiera dell'ascensione di quest'anno Con l'associazione abbiamo deciso di provare a prendere in mano la situazione Abbiamo organizzato tre eventi che si sono sviluppati nel corso dei tre giorni di festività Abbiamo messo in scena una commedia alla cantatrice Calva al teatro di San Rocco Abbiamo organizzato una pièce con Flavio Aurelio E alla fine una bellissima sfilata alla sera conclusiva dell'evento Con il corpo musicale Città di Voghera Che ricordiamo ci sarà, verrà da lietarsi e tenerci compagnia anche questo sabato dopo le 4 del pomeriggio Altri due eventi che abbiamo organizzato collegati alla rassegna dell'autunno al castello Il concerto di chitarra classica di Federico Lisandria E poi anche l'evento Trovatori, Giullari e Cantautori Con Giorgio Macellari e Mary Viscardi Un excursus musicale letterario dal Medioevo fino alla canzone d'autore Posso aggiungere, avendolo vissuto in prima persona, secondo me un grande traguardo per l'associazione è stato anche il Giardino delle Idee Assolutamente, è stato un moto che ci è nato vedendo il cortile qua di dietro Vuoto, spoglio, disadorno Abbiamo sentito la necessità di adornarlo, di riaprire la città Di creare uno spazio di aggregazione È venuta addirittura a suonare un'orchestra il giorno dell'inaugurazione Uno spazio per la città dove sì, si può esibire cultura, si può esibire musica Ma si può anche fare aggregazione, parlare, mangiare, discutere dei problemi della città Che ricordiamoci è uno dei fondamenti, uno degli obiettivi principali della nostra associazione Capire dove siamo e soprattutto dove vogliamo andare Abbiamo parlato di passato, di bilanci ma con una delle principali esponenti di questa associazione Non possiamo che chiedere quali sono gli eventi in programma per le prossime settimane Da qui fino al mese prossimo e fino alle festività natalizie Ok, intanto aspettiamo tutta la città questo sabato Alle 4 del pomeriggio, quindi prima che faccia buio Con proprio un giorno di festa Quindi spegniamo la prima candelina di Voguerai Con Caldarrost e Vembrilè La banda che come l'anno scorso ci sosterrà nei nostri festeggiamenti Sarà con noi per la terza volta Quindi un pomeriggio nel Giardino delle Idee farà freddo Ma ci scalderemo con l'amicizia e con il Vembrilè Quindi questo è l'obiettivo immediato Tutta la cittadinanza invitata Assolutamente, ci stiamo Il giardino è abbastanza grande E ha già ospitato eventi molto frequentati Quindi possiamo sicuramente aspettare tutti Poi abbiamo la presentazione Nell'immediato futuro di due libri Di nostri amici e soci Giorgio Silvani e Franco Capelli Anzi, prima Franco Capelli il 25 Quindi venerdì verso sera usciranno comunque le locandine La settimana dopo, il 2 dicembre, Giorgio Silvani Sempre il 25 novembre alla sera Quindi dopo la presentazione del libro E l'inevitabile apericena Ci sarà una serata a cui tengo molto Alla SOMS Per festeggiare il premio Nobel ricevuto da Bob Dylan Quindi una serata dedicata a Bob Dylan Ripeto allo stanzone Con Jimmy Regazzon, Marco Rovino e Maccabruni Quindi sono tre musicisti Una voce e una serata dedicata a una figura Che è sicuramente una pietra miliare Sia nella musica ma anche nella poesia Visto che è per la poesia che ha vinto il premio Nobel E devo dire che noi abbiamo avuto tanti appuntamenti Con la poesia quest'anno Con singoli poeti come Isetta, come Meardi Ma anche un reading poetico molto frequentato Sia dai poeti che dai cittadini Appunto in giardino in settembre Quindi la poesia è un'altra delle nostre passioni Per finire, non posso non chiederle Tra tutti i vari complimenti ricevuti durante quest'anno Ci sono state anche alcune critiche È giusto che sia così in un qualche modo C'è qualche critica che come associazione vi ha ferito Vi ha dispiaciuto particolarmente e se sì quale? No, diciamo che non ci siamo offesi per nessuna critica Le critiche sono sempre interessanti Perché quantomeno stimolano il miglioramento Ci sono state critiche gratuite che si sono esaurite da sole Altre che magari ci possono fornire degli spunti Magari verso eventi più popolari O comunque cercheremo di affiancare ad eventi come questi reading poetici Eccetera Piuttosto diciamo intellettuali Altri eventi per il grosso pubblico Ne abbiamo già fatti Non è vero che abbiamo fatto solo eventi per intellettuali Ci sono stati anche molti incontri legati ad esempio alle tradizioni vogheresi Al dialetto Quello sul trenino Voghera-Varzi Quello sul libro di vicini Voghera-Iso-Strala-Sogente Ecco quindi noi siamo molto vicini alle radici vogheresi Alla cultura dialettale Io sono felice di parlare tranquillamente e bene il dialetto Quindi assolutamente non ci riteniamo un'associazione intellettuale Se è il caso di creare maggiori eventi più popolari Lo faremo molto volentieri e con molto entusiasmo Stavo anche pensando ad una Befana per bambini Magari proprio col principine di Angelo Vicini Che tra l'altro per mia grande fortuna è mio cugino Ma che ha tradotto in vogherese questo bellissimo libro Ma siccome l'Angelo non lo sa ancora glielo dico adesso Una sorpresa per il signor Vicini Bene bene Allora in bocca al lupo per il prossimo anno di attività dell'associazione Grazie a tutti